Lasciati a se stessi, proprio come cani randagi. Parliamo delle associazioni volontarie animaliste di Bari, che ogni giorno raccolgono per strada cani e gatti feriti, o randagi, e si impegnano per curarli o sterilizzarli. Interventi che il Comune di Bari ha deciso di agevolare grazie a un fondo apposito e con convenzioni strette con istituti veterinari del territorio. L'ultima convenzione, scaduta nei mesi scorsi, è stata sostituita a febbraio con una nuova, che però è stata contestata dalle associazioni LADA, LAV, Legalo al Cuore, Nati per Amarti, LNDC, EMPA e Chi li ama ci segua, che hanno inviato una lettera di protesta al Comune di Bari. Primo motivo della protesta, l'ente è incaricato delle operazioni, e cioè la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari, che si trova però a Valenzano, così come uno degli ospedali indicati per l'adegenza post-operatoria. Le stesse associazioni dichiarano poi di aver saputo del rinnovo della convenzione solo dopo consultazione del sito del Comune, senza che nessuno li abbia informati a tutt'oggi delle modalità di erogazione del servizio. Il problema è che più volte noi abbiamo sottolineato di tenere presente che non è possibile effettuare le operazioni in una struttura che si trova a Valenzano, quindi fuori Bari, quando tutte le operazioni non siede a Bari ed operano a Bari, e soprattutto non è neanche l'ideale, il fatto che comunque i gatti e cani verranno portati, una volta operati, quindi ancora tramortiti, da una struttura in cui vengono operati, quindi la Facoltà di Veterinaria, all'ambulatore dove dovrebbero effettuare l'adegenza. Secondo la consigliera delegata al randagismo del Comune di Bari, Maria Maugeri, contattata telefonicamente da Antenna Sud, non ci sono però spazi per una modifica della convenzione, ormai avviata, e di conseguenza delle strutture presso le quali poter operare gli animali. Maugeri si è però dichiarata disponibile a incontrare i responsabili delle associazioni per ulteriori chiarimenti sulle operazioni di sterilizzazione.